Antonio Pratico, sono finalmente uscite le motivazioni della sentenza del 4 giugno scorso. Sono successo un po' di polemico ultimamente, o meglio, bisogna fare un po' di chiarezza su chi sia il vero proprietario dell'isola, visto e considerato che è addirittura stata tirata in ballo sia la principessa Yasmin d'Aprile, la giudice Alberto Caprioli, che poi è stato proprio colui che ha scritto questa sentenza. Quindi cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Non sono qua per rispondere a qualsivoglia polemica che in questo periodo si sta facendo sull'isola di Dino, perché a me la polemica non mi interessa. A me interessa dare i risultati vingenti in questo comune e alla popolazione di Praia e metto a bando ogni qualsivoglia polemica. Perciò la polemica non mi appartiene e nessuno mi ci trascinerà all'interno di questa polemica. Entrando nel merito, la giunta regionale ha approvato una delibera, la numero 205 del 2005, dove ha stabilito che il territorio dell'isola di Dino è stato dichiarato gravato da usi civici. Basta comprendere che cosa significa quando un zito è gravato dagli usi civici. Allora è una domanda che io lo pongo alla cittadinanza, lo pongo a tutti i cittadini. In ragione di tale delibera, la regionale, chi ha mosso le acque è stata la società Isola di Dino nel 2005 e ha promosso un giudizio civile dinanzi al Tribunale di Paolo, ex sezione di staccata di scalea. Nei confronti, questo giudizio l'ha messo in atto nei confronti del comune di Praia Mare per sentire dichiarare nulla la vendita dell'isola di Dino effettuata dal comune di Praia Mare in favore della società Isola di Dino nel Londano, 1962. E ottenere, sempre questa società Isola di Dino, questo è il giudizio che hai intendato, e ottenere di conseguenza la restituzione del prezzo corrisposto per quella vendita, 50 milioni di lire. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 1962 ad oggi, nonché una ulteriore somma a titolo di risarcimento d'anni. Bene, il comune si è difesa da questa citazione che ha fatto l'isola di Dino. Allora, ritengo che ha fatto bene costituirsi l'ente. E allora, prima, un'altra domanda che pongo alla cittadinanza, questa è la valutazione che dovete fare. Era giusto o era sbagliato difendersi? Il comune si è opposto al fatto che il contratto venisse annullato? Il comune di Praia, nella causa, nel costituisse in giudizio, ha fatto richieste che vanno al di là dell'annullamento della sentenza. Tant'è che ha chiamato in causa tutti i proprietari dell'isola di Dino, che poi sono risultati quelle che sono nel contenuto della delitto. Perché ha fatto un ragionamento. Quegli avvocati lungimiranti che il comune paga, giustamente io ritengo, stanno dando degli ottimi risultati a questo paese. Il comune di Praia Mare ha resistito in tale giudizio civile, chiedendo tra l'altro che qualora fosse dichiarata nulla la vendita effettuata nel lontano 1962, venissero chiamati in giudizio, quello che dicevo prima, anche tutti gli attuali occupanti. La Mara, SRL, la Picerni Immobiliare, Dell'Utri, Servetti Giannotti dell'Isola di Dino, e ai quali la società Isola di Dino SRL aveva venduto a sua volta le varie parti del territorio dell'Isola di Dino, al fine di sentire accertare la nullità anche di questi atti di vendita e sentirli condannati al pagamento della indennità di occupazione in tutti questi anni ed al rilascio dell'Isola di Dino da parte di tutti. Allora, come vedete, quei cittadini che hanno comprato dall'Adina SRL, chi li ha chiamati in causa è il comune di Praia Mare. E alla fine questa sentenza ha detto che ha fatto bene il comune a chiamarla, questo è come sundo, ha fatto bene a chiamarla in causa perché se è illegittimo il contratto di vendita, questa è la cosa che ci ha mosso, se il contratto di vendita dell'Isola di Dino è nullo, e allora automaticamente chi ci sta a denunciare, chi ci ha denunziato, come ha fatto a vendere agli altri le abitazioni? E allora sono stati dichiarati nulli. Perciò questa è un'altra valutazione che va fatta di chi ha fatta la causa per arrivare ad obiettivi che erano chiari per noi, che erano chiari per noi, e noi ci siamo difesi per come ci dovevamo difendere. Al termine del giudizio, con sendenza del 5 giugno 2014, numero 88, giudice dottor Capriole del Tribunale di Paola, ha quindi dichiarato nulla sia la vendita dell'Isola di Dino, effettuata dal Comune di Praia Mare, in favore della società Isola Dino nel lontano 1962, sia le vendite effettuate dalla società Isola di Dino ai terzi, quale Mare, SRL, Picerni Immobiliari, Dell'Utri, Servetti Giannotti, eccetera, condannando le varie parti in causa alla restituzione del prezzo di vendita oltre interessi decorrenti dalla data d'inizio del giudizio 2005. Questo lo dice la sentenza. Allora, l'euforia di chi amministra è contenuto in queste cose, perché per noi aver letto queste cose nella sentenza ci provoca gioia, ma ci ripaga di tutto l'impegno che noi mettiamo dalla mattina alla sera per difendere questo paese. Per pratico, quindi, non ci sono dubbi che il proprietario dell'Isola sia il Comune di Praia Mare. Sempre con la predetta sentenza del Tribunale di Paola 88 2014, ha condannato tutti gli occupanti dell'Isola di Dino. E la Dino è a corrispondere al Comune di Praia Mare un indennizzo per l'occupazione effettuata in questi anni, nonché al rilascio dell'Isola di Dino. Questo non lo può smentire nessuno. Questa è la sentenza. Tutto il contenuto della sentenza lo apprezzo. Ne sono grato al Tribunale di Paola, perché finalmente potrà finire una storia che si sta portando avanti da oltre 60 anni. E chi, come me, che ha una certa età, ricorda tutte le battaglie denigratorie che si sono fatte sulle piazze sull'Isola di Dino. Il Tribunale di Paola ha precisato che all'Isola di Dino è applicabile il regime della indisponibilità assoluta del bene ai sensi dell'articolo A, dell'articolo 12,2 della legge 16.6.1927, numero 1766. Conseguentemente, in forza di queste leggi dello Stato, ogni atto di compra-vendita dell'Isola di Dino era ed è nullo per impossibilità dell'oggetto. Allo stesso modo e per lo stesso principio sono nulli tutti gli atti di vendita relativi all'Isola di Dino effettuati dalla società Dino a terze. Alla nullità di tutti gli atti di vendita dell'Isola innanzi indicate consegue, sempre in base a detta sentenza, la restituzione del prezzo delle relative vendite in ricompreso quello originario di 50 milioni di lire pagati dalla socialità Isola di Dino al comune di Praia Mare nel 1962. Importo questo, riconosciuto, senza rivalutazione monetaria e con gli interessi a decorrere unicamente dalla data di inizio del giudizio non essendo stata dimostrata una mala fede da parte del comune di Praia Mare nel corso della vendita. Questa sentenza ha fatto chiarezza principalmente su quello che si diceva nel passato sull'Isola di Dino. Detto questo, va osservato altresì che con la sentenza in questione il Tribunale di Paola ha riconosciuto in favore del comune di Praia Mare una indennità di occupazione senza titolo dell'Isola di Dino da parte della società Isola di Dino e dei terzi. In particolare, ai fini della comprensione della vicenda in esame va rilevato quando testualmente affermato dal Tribunale di Paola nella sentenza in questione. Dall'accertata nullità ed è questa la causa ne deriva che l'occupazione dell'Isola deve considerarsi sine titolo di talché l'odierna attrice Società Isola di Dino in guando ende esponenziale della collettività nei confronti della quale sono stati riconosciuti degli usi civici ma quando un sito è gravato da usi civici significa che quel sito cioè l'Isola di Dino è un bene che appartiene a tutti i cittadini di Praia e chi difende questa proprietà che appartiene a tutta la cittadinanza di Praia chi la difende? la difende il comune come ende esponenziale della collettività inoltre il primo cittadino ha anche puntualizzato sul recente intervento del giudice del Tribunale di Paola Alberto Caprioli non mi risulta che il dottor Caprioli giudice si sia discostato dalla sentenza ha detto quello che lui ha detto è riconfermato in sentenza gli altri stanno trostrumentalizzando ingiustamente il giudice qualsiasi cosa abbia potuto fare per me non si è scostato dalla sentenza come nemmeno io mi permetto di scostarmi dalla sentenza io ritengo però leggendo la sentenza che il magistrato nel determinarsi nella sentenza risulta per tabulas che gli atti di causa l'ha lette dal primo all'ultimo per come sono richiamati in sentenza e io mi sento di ringraziarlo come magistrato perché è stato garante della correttezza e della giustizia noi siamo ende esponenziali che siamo i difensori dei cittadini di Praia diciamo che il bene è di Praia e per essere di Praia è anche del comune di Praia che cosa ne sarà dell'isola l'amministrazione che cosa ha in mente da subito quello che l'amministrazione ha in mente di fare è quello che i legali suggeriranno noi non possiamo fare azioni che possono andare al di là di quello che pensano i nostri legali io posso dire solo una cosa alla cittadinanza in questi giorni sono stato ricercato da più parte che si vuole discutere su questo problema io ritengo che questo è un segno della nostra vittoria è un momento storico e indimenticabile non solo per i cittadini di Praia Mare ma per l'intera Calabria sebbene non si esclude un ulteriore corso alla vicenda giudiziaria terminata con la predetta sentenza del tribunale di Paola va evidenziato tuttavia che è più famosa l'isoladino della Calabria per i cittadini Grazie per la visione!